Al contrario del vaso tradizionale, il vaso moderno, il vaso moderno e contemporaneo ha un autore. E questo è abbastanza interessante. È una cosa strana, dice, beh, deriva dalla contemporaneità, al fatto di essere autoriali, mentre prima la traduzione dell'artigiano, a meno che non fosse un super artigiano, faceva sì che ci si dimenticasse, non fosse utile e neanche importante l'autore, perché l'autore seguiva un modello. Invece qui l'idea è rompere il modello mantenendo la tipologia. Se uno va indietro nel tempo proprio ai vasi greci, per esempio, greci ellenistici e così via, il vaso greco era attribuito a qualcuno, perché il vaso era qualche cosa di importante. E qui si arriva anche a un'altra condizione del vaso. Cioè il vaso non è soltanto un utensile, un qualcosa che tu puoi utilizzare per contenere qualche cosa, eccetera, ma è anche appunto un qualcosa di concettuale. I vasi antichi che noi troviamo nelle tombe non sono mai stati riempiti di niente. È lo stesso perché semplicemente dicevano chi era quella persona. È lo stesso anche i nostri vasi contemporanei. Il vaso rimane vaso, cioè aspetta il suo contenuto e il suo contenuto lo deve dare chi lo possiede.